ben trovati dunque avete letto il titolo del del video non è un pesce d'aprile vi ricordate che io avevo fatto insomma un video pesce d'aprile c'era stata una cosa alla fine era un pesce d'aprile non è pesce d'aprile anche perché non è aprile perché ho scritto questo titolo perché effettivamente siccome la notizia girerà tra poco vorrei dirvelo prima io preferisco dirvelo prima io tra l'altro questa cosa mi è stata se è una cosa che mi sta sempre chiesta mi è stata sempre fatta questa domanda su instagram su tik tok un sacco di volte qui su youtube è molto spesso io non ho risposto cioè ho lasciato perdere ho sempre allontanato e siete sempre intervenuti anche voi dicendo lasciate perdere forse il prof non è ancora pronto forse non è ancora il momento eccetera però adesso ovviamente non posso più nascondere questa notizia dato che finalmente questa cosa l'ho fatta ci ho provato due anni fa e non ci sono riuscito ci ho riprovato quest'anno agli inizi di quest'anno è stato bellissimo mi è piaciuto ho continuato a farlo ho portato a termine quello che dovevo fare ed è successo e quindi non posso più nascondere questa notizia ragazzi ho scritto il libro ho scritto il libro mi viene da piangere no vi giuro vi giuro sono emozionatissimo sono proprio emozionato da morire ho scritto finalmente il libro che volevo scrivere da un po di tempo la notizia però è questa esce il 27 settembre in tutte le librerie ma è preordinabile già fin d'ora su tutti gli store digitali quindi andate non lo so ad esempio in amazon scrivete la fisica che ci piace a proposito del link per il preordine ve lo lascio qua ping così lo potete prendere per chi lo preordina c'è una sorpresa incredibile ci sarà la possibilità di partecipare a una chiamata zoom con me ci racconteremo un poco di fatti e parlerete con me e parlerete con me perché è una cosa che molti di voi desiderano e io amo questa cosa e poi riceverete una mail naturalmente con un gruppo telegram al quale vi potrete iscrivere e in questo gruppo telegram io racconterò soltanto per chi lo preordina un po di retroscena della scrittura di questo libro quante volte me l'avete chiesto quante volte non vi ho risposto perché dentro comunque mi faceva male sta cosa di non riuscire a trovare la chiave giusta per raccontare così come racconto la fisica attraverso i video i social video lunghi corti così come ho fatto sempre attraverso un video io volevo desideravo con tutto me stesso di farlo attraverso la scrittura e ci sono riuscito finalmente il libro è bellissimo perché parla di fisica di tutti i giorni quindi è un po quello che voi vedete attraverso i miei video diciamoci la verità però raccontati in maniera diversa perché il racconto che io ho fatto passa attraverso me attraverso questo prof pugliese strano strano goffo certe volte io cado mi cadono le cose c'è allora siccome mi sono accorto che attraverso il racconto delle cose che io faccio ogni giorno dei miei amici della mia famiglia della mia vita delle persone che amo della persona che amo mi sono accorto che attraverso questo racconto c'era c'è un sacco di fisica tantissima fisica che poi è la fisica che vivete voi ogni giorno nelle cose semplici della vita allora quello è stato il campanello che ha illuminato la mia mente e mi ha fatto cominciare a scrivere e poi devo dire devo dirvi la verità è un libro che si legge velocemente perché è un libro che ti mette curiosità cioè tu vuoi andare al capitolo successivo vuoi andare avanti vuoi sei curioso no vuoi andare non solo vuoi andare avanti perché ti illumina attraverso le cose che ci circondano e che quindi parlano di fisica perché voi vi renderete conto che quando guarderete una tazza quando guarderete un dell'acqua che che scorre quando guarderete le giostre a luna park quando vivrete una giornata una pizza con gli amici e quando andrete in giro a prendere un caffè un gelato cioè voi vi renderete conto delle cose che io racconto che sono parte della vita di tutti i giorni di tutti noi perché noi siamo connessi in questo senso e sono piene di fisica e la fisica è lampante e ve lo raccontate come vi dicevo i capitoli si susseguono l'uno con l'altro sono veloci e si beve è un libro che scorre nulla tantissima emozione grazie se volete avere qualche notizia sul libro naturalmente commentate scrivete eccetera eccetera e vi lovo è il giusto completamento al percorso che io sto facendo insieme a voi e vi ringrazio perché se ho scritto questo libro io l'ho scritto grazie a voi